Giunta alla 63esima edizione, la mostra della ceramica di Castellamonte è stata presentata dall'amministrazione comunale a Torino con il curatore Beppe Bertero e con l'artista grafica Elisa Talentino. La mostra non appare nel suo genere in Piemonte. Ha scelto quest'anno ceramisti da 26 paesi del mondo, ma il paese ospite è la Cina. L'arte della ceramica per la Cina è una tradizione millenaria, famosa nel mondo. In occasione quest'anno dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, che per primo scoprì e raccontò la Cina, il paese del sollevante sarà l'ospite d'onore a Castellamonte. 700 anni fa moriva Marco Polo e Castellamonte ospita la Cina come paese alla mostra della ceramica, un ponte fra Cina e Italia nel segno della ceramica. Sì, infatti la ceramica rappresenta quell'elemento culturale, identità culturale che ha collegato Europa e Oriente. Inizialmente l'antica via della seta, ma tuttora noi cerchiamo di dare una mano a questo grande elemento, che è questo grande spirito di pace e di scambio culturale che possa continuare anche per le nuove generazioni. Il percorso è cominciato con la collaborazione tra la città di Castellamonte e l'associazione Nuova Generazione Italo-Cinese, che ha costruito un ponte istituzionale, umano ed artistico tra il comune canavesano e la prefettura cinese di Wanzhou, da secoli importante centro di produzione di ceramica e porcellana del paese del Dragone.